Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, sono TNBT ed oggi parliamo di un personaggio che è stato sempre distrattato dal fandom di One Piece ma che potrebbe avere la sua rivalza proprio nei prossimi capitoli. Ovviamente sto parlando di Gecko Moria, quindi in questo video andremo a ripercorrere un pochino la sua storia, analizzare un pochino il personaggio e a discutere quale potrebbe essere il suo futuro. Prima di farlo però vi invito come sempre a iscrivervi al mio canale, quindi se non l'avete fatto iscrivetevi, attivate la campanellina e lasciate un bel pollice in su per supportare la mia attività su YouTube perché a voi non costa niente e a me fate un grosso favore. Detto ciò, chiusa parentesi, andiamo subito a parlare un po' di Gecko Moria. Un breve recap di quella che è stata la sua vita e la sua caratterizzazione da parte di Oda. Gecko Moria è un personaggio che nasce nel mare occidentale circa 50 anni fa e che da giovane partecipa all'esecuzione di Gold Roger, o meglio, è uno di quei personaggi che 22 anni fa hanno assistito all'esecuzione di Gold Roger e che quindi con il discorso del re dei pirati poi viene in qualche modo fomentato e spinto a prendere il mare e a seguire i suoi sogni, quindi la strada, la via del pirata. Uno della stessa generazione appunto di Mioc, di Crocodile e di altri personaggi che hanno in quel frangente trovato appunto il motore per spingersi verso il mare e cominciare la propria avventura. Nella vita di Moria c'è un evento che è chiaramente centrale, ovvero la sua sconfitta contro Kaido avvenuta nell'isola di Uwano circa una trentina di anni fa. In quell'occasione Moria viene brutalmente sconfitto e la sua ciurma in particolare viene sbaragliata e distrutta da Kaido. Questo trauma, lo dice espressamente Oda nelle pagine di Thriller Bark, che è appunto il momento in cui Moria viene in contatto con il protagonista e quindi con la storia di Rufi, viene espressamente detto che quell'evento ha segnato profondamente Moria dal punto di vista psicologico. E questo, se ci pensiamo, è già una caratteristica unica, nel senso che rispetto a tutti gli altri personaggi, quindi magari a Doflamingo, a Crocodile e agli altri membri della flotta dei Sette che vengono incontrati da Rufi, Moria in realtà, quando si scontra con Rufi, è già l'ombra di se stesso, il che fa anche un po' ridere, nel senso che poi Moria è il frutto dell'ombra, vabbè, ma quello è un altro discorso. Diciamo che è già in fase calante, è già un personaggio del quale il governo mondiale stesso non si fida e quindi, nonostante sia un membro della flotta dei Sette, decide di inviare Orso Bartolomeu proprio per evitare che Moria venga sconfitto. Questo è dimostrazione del fatto che proprio neanche il governo mondiale riponeva grande fiducia in Ghekko Moria, no? Esattamente come i fan di One Piece che hanno sempre distrattato un po' questo personaggio, vuoi un po' per il suo aspetto così grottesco, per il suo fare un pochettino poco, diciamo così, da personaggio badass, diciamola con questi termini, però è un personaggio che ha sempre, diciamo, ispirato poca fiducia nel fandom, ecco. Durante la storia Moria viene sconfitto, nonostante a Thriller Bark comunque si faccia in qualche modo valere e sia un avversario di tutto rispetto per Rufi e la sua ciurma, tuttavia appunto viene sconfitto. Dopodiché lo ritroviamo a Marineford durante la guerra impiegata da Barba Bianca contro il governo e la Marina stessa, e in quell'occasione viene prima mazzuolato malamente da Jinbei, che poi sarà futuro compagno di Rufi, eccetera, eccetera, e poi alla fine della guerra ci viene mostrato come Doflamingo e dei pacifista stiano cercando di eliminarlo, lo stiano quasi per uccidere, poiché hanno ricevuto un ordine dall'alto, probabilmente da Im o comunque dai Draghi Celesti, che vuole la morte di Moria perché è ritenuto troppo debole per far parte della flotta dei Sette. Quindi immaginatevi questo personaggio che prima viene sconfitto da Kaido, poi viene sconfitto da Rufi, poi il governo mondiale se ne vuole liberare e tuttavia, nonostante questa serie di continue sconfitte, alla fine riesce sempre a cavarsela. Nello specifico, per quanto riguarda la battaglia di Marineford, viene salvato da Absalom grazie ai suoi poteri e in qualche modo riesce a cavarsela, nonostante la sua ciurma venga comunque smantellata. Infatti Perona, uno dei suoi luogotenenti più fidati, finisce con un altro membro della flotta dei Sette, Dracol Mio, che finisce quindi a vivere con lui. Ora poi c'è il salto temporale, dopodiché rivediamo Moria di recente, quando appura appunto della morte di Absalom e quindi decide, nonostante tutto e tutti, di andare ad Acinosu per combattere contro Tic, responsabile appunto dell'uccisione di uno dei suoi sottoposti più fidati. Ecco, la sconfitta contro Tic è solo l'ennesima delle tante sconfitte di Gecomoria, però secondo me ha già rappresentato uno step successivo, ha rappresentato un qualcosa in più dal punto di vista della caratterizzazione del personaggio, perché nonostante Moria sia in qualche modo abituato a perdere, sia un personaggio che viene sempre mostrato in qualche modo debole, tra virgolette, perché comunque membro della flotta dei Sette, però debole rispetto ai forti, dal punto di vista psicologico, il fatto che lui attacchi personalmente Acinosu, fa capire come in realtà qualcosa si sia sbloccato dentro di lui, perché quella sconfitta contro Kaido lo aveva segnato psicologicamente, ha sempre preferito mandare avanti i sottoposti, ha preferito non sporcarsi le mani, ma a questo non è bastato, le continue sconfitte appunto hanno sicuramente fatto capire a Moria che in qualche modo deve tornare, almeno deve provarci a tornare il pirata giovane e forte che era un tempo, e quindi quando vede appunto la morte di Absalom, questa è la goccia che fa traboccare il vaso, quindi nonostante tutto decide di partire, di attaccare niente meno che Barba Nera, e ovviamente il risultato è scontato, però dal punto di vista del carattere ci ha messo il suo, quindi ha fatto quello che doveva fare. Ora, con il capitolo 1081, noi vediamo Perona dire espressamente a Kobe di liberare Moria e dargli addirittura le chiavi, dicendogli che è stato tenuto praticamente prigioniero nelle parti più remote di Acinoso, quindi è un personaggio comunque in qualche modo temuto da Teach, che è un personaggio scaltro, e Moria ha un potere che sicuramente è molto insidioso, e questo potere potrebbe essere proprio la chiave di uno degli eventi che potranno succedere ad Acinoso. In particolare, noi non abbiamo visto con certezza, non sappiamo se Moria sia libero o meno, se Kobe lo abbia liberato o meno, però io sono propenso a credere che sia così, e che in qualche modo l'ex membro della Flotta dei Sette possa spuntare fuori durante la battaglia con Garp proprio nel momento, diciamo, cruciale. E il fatto che lui si voglia sicuramente a questo punto vendicare di Teach e della sua ciurma lo fa diventare automaticamente un alleato della Sword, un alleato di Garp, di Kobe, e quindi della fazione, diciamo così, tra virgolette, della Marina. Quindi in qualche modo potrebbe essere nuovamente vicino alla Marina, anche se non più formalmente. Sappiamo bene dall'ultimo capitolo come la Sword agisca per conto della Marina, ma in realtà sia una forza distaccata che ha una decisa autonomia organizzativa, e quindi chissà, questa ovviamente è solo un'ipotesi, chissà che proprio in virtù della sua autonomia organizzativa la Marina non possa magari riprendere tra le sue fila o comunque collaborare con un personaggio come Ghekomoria che è stato formalmente licenziato dalla Marina stessa. Quindi capite che il suo riscatto potrebbe avvenire sotto più livelli, da un punto di vista, diciamo così, lavorativo, perché la Marina potrebbe vederlo comunque come un qualcuno di utile al riscatto, diciamo, del personaggio di Kobe, che è una figura che in futuro sarà centrale. E dall'altro punto di vista, quello più importante, diciamo il punto di vista personale, perché Moria, dopo aver subito continue batoste, e continue sconfitte, potrebbe finalmente magari con il suo potere, che è molto insidioso, mettere i bastoni fra le ruote proprio a uno dei personaggi attualmente più forti, ovvero Teach. Quindi magari, grazie a qualche scamotage, potrebbe essere un elemento chiave per la fuga magari proprio di Kobe e la sua salvezza. insieme magari ad Aokiji, ma su quello torneremo magari in un altro momento. Per quanto riguarda Garpe, invece, io ho un pochino un brutto presentimento, nel senso che, come tutti i personaggi, diciamo, anziani, che abbiamo visto combattere, un po' come Barba Bianca, io temo che possa fare una brutta fine, nonostante nell'ultimo capitolo è sembrato praticamente invincibile. Però questo lo staremo un pochino a vedere nel corso della storia. Fatemi sapere un pochettino voi cosa ne pensate, se credete che Moria possa avere un ruolo in questa saga, lasciatemi un commento qui sotto. In descrizione vi lascio tutti i link dei miei profili social, canale Telegram per discutere di One Piece, i miei libri, Infernal Catering, in particolare lo trovate su Amazon, per chi volesse leggere dei racconti un po' particolari. Detto questo, nulla. Un saluto a tutti da TNBT, ci vediamo con i prossimi video. Questa settimana sapete che non esce il capitolo, ma in qualche modo siamo sempre qui a parlare, a discutere per quanto riguarda One Piece. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao!